Il papà ne ha 24, io i primi tre non li ho visti prendere chiaramente, l'unico che ho visto è stato un giardino di Fizzicontini che l'ha vinto quando io già c'ero e non è andato a ritirarlo. Io ho detto ma sei matto? Diceva ma che te frega, tanto ho vinto lo stesso. Vincere un Oscar è come se Cassius Clay entrasse dentro a casa di Roberto Rossini e dà un cazzotto allo stomaco, quindi soffre, meglio non soffre che è amico mio. Come ti senti questa sera e cosa dirai? Beh, racconterò queste aneddote che è l'unico che conosco per quanto riguarda gli Oscar. Mi fa piacere quando un Laura dell'Icoglio o qualcuno ricorda mio padre perché questo purtroppo è un paese che dimentica facilmente, quindi quando si può ricordare una persona come mio papà o come Anna Magnani è una grande festa, fanno bene. Poi questa sera è una serata in onore degli italiani che si sono distinti in America con questo grandissimo premio.